a colpa amico, a colpa amico, e tutti i danni mi fregavi tutti i danni mi metto nel mezzo a soli, a soli, a soli, a soli, a soli Bruno, vatti rispettare, andiamo a giù qua a soli a soli, a soli, a soli, a soli, a soli a soli, a soli, a soli, a soli, a soli a soli, a soli, a soli, a soli a soli, 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 a soli Allora, questo Natale io sono estremamente contento perché abbiamo una signora che ci regalerà una bambinella, per cui se si resume che l'estate anno non saremo tutti noi vecchi con voi ormai, non vi dite più, fate come vi fate, io voglio essere una polizia di Natale con il cassino messo lì, con la letterina, ma non te lo faccio, poi a scrivere la madre noi che vediamo qua, ci sono ben 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 ben, non è che devi dire che sai cosa, per cui l'agurio, comunque la proposta, che chi è fidanzato a 10-12 anni, stiamo a fare una mossa, stiamo a fare una mossa, vediamo perché qui, vediamo che noi, 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 G-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Vedi che vedi la grassi igienica?